Ed eccoci qui al tour dei trofei presso lo Stadio Olimpico. Partiamo con la meravigliosa Coppa delle Coppe vinta nel 1999 e la sua gemella, Supercoppa Europea, vittoria contro il Manchester United. Dopodiché ci spostiamo sulle Coppe Campioni d'Italia, la 1973-74 meravigliosa e quella del 1999-2000, sono due le coppie che la Lega ha comunque fornito e donato alla Lazio. La Coppa del 26 maggio del 2013, Lulic, fantastica, fantastica. E ci spostiamo con quella vinta recentemente contro l'Atalanta. E poi, e poi, Riad, la Supercoppa italiana vinta prima di Natale contro la Juventus. E andiamo sulle Coppe Italia, quelle un po' più lontane del tempo. La 1998 vinta contro il Milan. E poi quella del 2000, della grande Lazio del Triplete. E poi quelle un po' più recenti. Diciamo, 2003-2004, la Coppa Italia con Mancini allenatore. 2008-2009, quella vinta ai rigori contro la Sondoria. E poi queste meravigliose Supercoppa italiana, anche queste. Guardate che meraviglia, con il logo della FIGC impresso, della Lega. E poi la Coppa Italia del 1958. Come potete vedere, la forma è diversa da quelle recenti. È meravigliosa. Sembra una piccola Coppa dei Campioni, fantastica. Appena restaurata, la Supercoppa italiana del 2017, con un grande Murgia che decide all'ultimo. E poi la Supercoppa di Pechino, quella contro l'Inter di Mourinho. E poi anche questa. Guardate la targhetta, Supercoppa italiana 98. Siamo a Torino, al vecchio delle Alpi. La Lazio le spugna e vince con il gran gol di Consesau. Questa è la Lazio, questi sono i nostri trofei, questi sono i nostri eroi. Questo è il nostro simbolo, una storia fatta di successi, di trofei, di gioia e anche di dolori. La Lazio è questa. Dal 1900, in alto i nostri cuori. Non, 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 non.